ciao a tutti oggi prepariamo il pan pepato facciamo rimbenire l'uvetta con una tazza di acqua calda e un bicchierino di rum e lasciamo per 30 minuti una volta passati 30 minuti la strezziamo e la scoliamo con l'aiuto di un mixer tritiamo le nocciole le mandorle le noci e l'arancia candita adesso aggiungiamo della noce moscata del pepe e della cannella intanto facciamo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria aggiungiamo l'uvetta aggiungiamo il cioccolato fuso facciamo riscaldare leggermente il miele per renderlo più fluido aggiungiamo il miele riscaldato all'impasto cominciamo a mescolare e piano piano incorporiamo la farina adesso bisogna sporcarsi le mani e impastare tutto per bene diamo all'impasto una forma di pane schiacciata al centro inforniamo il nostro pan pepato a 170 gradi per 30 minuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti